buongiorno sono matteo piazza oggi faremo un walk around sul nostro top di gamma per quanto riguarda gli spandi concime il nostro primo e vh isotronic la macchina che ho qui accanto è il non plus ultra per quanto riguarda la precisione di spargimento nel campo e vh sta a significare macchina elettrica quindi tutta la gestione dello spargimento è totalmente automatica indipendente w significa macchina con pesatura in continuo quindi qua abbiamo il massimo per quanto riguarda la precisione l'accuratezza nella calibrazione del flusso in uscita h sta a significare gestione indipendente dei due dischi di spargimento tramite motori idraulici isotronic sta a significare che la macchina è totalmente compatibile con sistemi isobus e il cui software è stato sviluppato dagli ingegneri del gruppo maschio raspardo quindi andiamo a rispondere alle massime esigenze di precisione nello spargimento macchina che porta fino a 3.200 litri di capacità e 3.200 kg di portata la configurazione del primo che abbiamo qua vicino è full optional anche per quanto riguarda l'utilizzo degli accessori quindi possiamo vedere il kit limitatore centrale quindi abbiamo la possibilità di inserire elettricamente la possibilità di chiudere lo spargimento destro o sinistro quindi nel caso dovessimo andare a spargere con limite della del campo dove ci sono case strade quant'altro abbiamo la possibilità di fare completamente una barriera alla metà della macchina quindi garantire che nessun grano di concime possa passare la mezzeria della macchina nella parte destra abbiamo il kit bordure che dà la possibilità di poter gestire lo spargimento ai bordi del campo utilizzando le stesse traiettorie che vengono utilizzate sulla botte del diserbo quindi nel caso di macchina da 24 metri con barra 24 metri possiamo utilizzare le stesse le stesse track line macchina con dischi l20 quindi macchina che può arrivare fino ai 36 metri di larghezza di spargimento scaletta laterale quindi possibilità di accesso facilitato alla tramoggia telo tramoggia elettrico quindi possibilità di poterlo aprire e chiudere direttamente dalla cabina ma in più anche tramite una tastiera laterale come vi dicevo la il primo isotronic ha una software sviluppato dal nostro gruppo il vantaggio di essere stato sviluppato dal gruppo maschio gaspardo è che ci dà la possibilità di poter calare le esigenze dei nostri precision farmers direttamente sulla nostra macchina quindi per poter veramente modificare le prestazioni della macchina secondo quello che ci viene chiesto dal mercato la macchina quindi ha la possibilità di poter gestire fino a 32 sezioni di spargimento due punti di lettura su mappe di prescrizione quindi abbiamo la possibilità di sdoppiare disco destro e disco sinistro con due dosi per poter essere ancora più precisi anche sull'applicazione del concime questa è la versione e la versione 3.200 abbiamo una versione ulteriore che aumenta la capacità fino a 4.450 litri e 4.500 kg di portata per aumentare ancora l'efficienza l'efficienza giornaliera possiamo dire quindi che con la configurazione che ho qui accanto riusciamo a raggiungere il massimo della precisione e il massimo dell'accuratezza nella spargimento del concime che al giorno d'oggi è una operazione essenziale per tutti i nostri agricoltori maschio gaspardo growing together grazie